E' uscito fuori anche un nuovo giovane, Leclerc, il suo giudizio? Io trovo che Leclerc sia sicuramente un essere che ha la capacità di guida necessaria. Bisognerà vedere se lo sanno gestire nel modo corretto, evitargli che si bruci perché è giovane. Ha bisogno, anche se è veloce, di imparare, soprattutto di fare esperienza senza commettere errori. E' sorprendente comunque che abbia vinto prima di Vettel. Sì, ma le vittorie sono sempre legate a tante cose, non solo l'abilità. Comunque lui ha un pregio veloce, sicuro di quello che fa ed è per questo che io mi auguro che lo sappiano gestire nel modo corretto per farlo diventare il campione di cui ha le caratteristiche.